No, guardi, io adesso non ho proprio il tempo di stare al telefono perché sto registrando un video su YouTube e quindi adesso ho finito di registrarlo e devo mandarlo in onda e poi dopo niente, poi adesso devo andare anche a fare lezione Eh ma io devo, io alle 5 devo essere in palestra, poi devo salutare i miei iscritti Ma devo andare via e poi i miei iscritti non è che possono stare qui ad aspettare il video insomma che duri molto Sinceramente non ci pensavo ma mi è venuto in mente adesso perché vedo che la figlia sta facendo i compiti di matematica e allora andiamo a fare qualche, vorrei fare due conti riguardo a questo cashback Solo che c'è un piccolo problema, io sono abituato a pagare con lo smartphone quindi con Google Pay e purtroppo anche se mi sembrava di averlo letto tempo fa che veniva attivato forse probabilmente dal gennaio 2021 ma tutto questo non è stato fatto ma mi sembrava di aver letto che insomma era stato attivato non lo so e mi sarò sbagliato, l'avrò letto non so da dove, forse in qualche blog da qualche parte che hanno detto una cacchiata e a me è passata anche di mente e ho sbagliato, ho fatto la mia cavolata perché sono andato a vedere i pagamenti che ho fatto giusto così, tanto per vedere un po' la situazione anche perché adesso c'è anche la posizione, possiamo vedere, sapete che ci sono i primi 100.000 utilizzatori dalla carta con l'app io, con il cashback, riceveranno 1500 euro e ci fa vedere la posizione ve lo metto già alla schermata, questo qui ecco mi dice che io ho fatto una transazione dal primo gennaio cioè dall'inizio dell'anno ma non è così perché io ne ho fatte ben 6 o 7 però mi risulta solo una e questa qui la problematica è perché io ho pagato con Google Pay e questi tipi di pagamento non sono ancora stati attivati, quindi mi raccomando bisogna tirare fuori la bella carta di plastica e bippare come dice qualcuno e bipparlo su questo contact questo pago bancomat perché altrimenti fate la mia fine, cioè vedete un'unica transazione e la mia posizione come vedete sono al 5 milionesimo, allora la posizione è 5.218.210 cioè io sono in quella posizione lì, se ci clicchiamo sopra, Stefano ho una transazione, tu sei a questa posizione i 100.000 utenti in classifica, quindi penso che abbia fatto una media, sono 27 transazioni fino ad oggi, oggi è il 21, 27 transazioni, bisogna farne parecchio, qui bisogna pagare qualsiasi cosa sapete non è obbligatorio, non è la cifra, ma è proprio il BIP, quindi il nostro pagamento anche se pagate un caffè, anche se in alcuni bar ho visto che minimo vogliono una spesa di 5 euro perché sennò non ti fanno pagare con il bancomat e cosa devo dire? Niente, quindi state attenti cari ragazzoli di come pagate, mi raccomando utilizzate la carta fisica e non utilizzate sistemi di pagamento come è Google Pay, come è anche Apple Pay, Satisfay va bene, il bancomat funziona, anche se molti di voi e anche amici hanno avuto questi problemi, hanno avuto dei problemi per anche le transazioni con la carta alcuni, allora se inserivano questo bancomat o la carta gli veniva conteggiato, se lo si pagava con il contact invece non veniva conteggiato, però si può fare anche una richiesta, adesso non so se bisogna contattare l'app io oppure la banca, insomma bisogna fare tante tante verifiche perché queste transazioni sono valide devono essere validate e ci sarà un meccanismo, adesso se magari scoprirò oppure se lo sapete anche voi come fare lasciatelo sotto nei commenti, io intanto indagherò. Bene a questo punto anche mi viene in mente sapete io andavo con la carta di biconto carta e non dovrei avere i costi per pagare il bollo ma a questo punto bisogna fare anche una sorta di conti, giusto? Facendo matematica facciamo i conteggi bene e allora dobbiamo anche valutare che cosa? Se io devo andare a pagare un bollo dell'auto perché mi raccomando scade fine mese, fine gennaio per altri, poi quello dello scooter mi scade a fine febbraio bisogna pagare questo bollo e conviene andarlo a pagare anche se si dovesse pagare, cioè se si dovesse si paga la commissione, non so 1,50 euro, 1,80 euro, 2 euro di commissioni del bollo conviene perché qui riceveremmo un bel 10% indietro, quindi spendete 200 euro, sapete che massimo si può ricevere 15 euro quindi il 10% di 150 euro e insomma sono sempre 15 euro che tornano indietro anche se paghiamo una piccola commissione. Va bene ragazzoni io vi devo salutare, finisce qui il video grazie per essere stati qui fino alla fine, vi saluto perché è l'ora di andare ad allenare quindi ci vediamo prossimamente sempre su questi schermi, il solito saluto i nuovi vecchi iscritti e il solito abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ciao da Tito Chi è? 018, chi è? Oh aspetta che siamo in diretta, sentiamo chi è, dalla Spezia Pronto? Pronto? Sì? Buonasera? E la chiamo da una società di trading online, beh la conosce trading online, l'hai sentito prima? Eh certo che la conosco trading online, mamma mia, certo, certo, certo che la conosco Allora la conosce trading online? Hai sentito prima? Sì, ho detto che la conosco, sì, mi conosco Conosce in teoria oppure anche in pratica? Io conosco bene tutto un po' il mondo del trading online, certo Come ne andate? Diciamo, hai fatto qualche indeczienza? Sì, 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 certo, va bene, va bene Ah, mi fa piacere, la fai con una società oppure con una banca? No, 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 con le banche Cioè, oddio, c'è anche con le banche, con le poste, con online, insomma un po' Un po' mi sta, sì, sì, sì Tutti questi soldi li investiamo ovunque, non so più dove metterli Allora è così Un po' mi sta, sì, 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 sì...